Il mio amico è un po' per capire la matrimonialità e oggi si è riprosinato il mondo del presente che è il singolo del mondo della nostra vita e della nostra tradizione di ricerca di strada. E' un po' per il primario comunitario e per il piaggio. E' accanto c'è l'albero, l'albero, il sindaco, è stato nominato dalla città di Alba e per questo al momento ha assunto un valore importante perché in calda i valori della città, della solidarietà, della collaborazione, di tutti i compagni che noi abbiamo bisogno in questo momento storico. E' un'altra cosa che noi scegliamo di giudicare un grande intervento. Io sono davvero felice per questo. Signore, Dio della vita e della gioia, accorgi in questa sede la nostra lode mentre ti chiediamo di benedire il presente e l'albero di Natale. Fatto come il pastore, sappiamo anche noi stupirci dinanzi a te, bambini, e sappiamo impegnarci per cantare con gli angeli la tua lode ed invocare il dono della pace sulle nostre famiglie e sul mondo intero. Le luci accese di questo albero ci invitano ad essere noi stessi, luce che in un cuore riscatta e conforta in un mondo tante volte preso da molte preoccupazioni, da tante povertà e di solitudine. La Santa Casa sia per noi tutto il luogo dove siamo chiamati ad accorgere con Maria. E sì, che tu attenti la gestione di noi e possano sì aiutarci a rendere la pace. La Santa Casa sia per noi stessi a rendere la pace sulle nostre famiglie e sulle nostre famiglie e sulle nostre famiglie e sulle nostre famiglie. La Santa Casa sia per noi stessi a rendere la pace sulle nostre famiglie e sulle nostre famiglie. La Santa Casa sia per noi stessi a rendere la pace sulle nostre famiglie e sulle nostre famiglie. La Santa Casa sia per noi stessi a rendere la pace sulle nostre famiglie. La Santa Casa sia per noi stessi a rendere la pace sulle nostre famiglie e sulle nostre famiglie. La Santa Casa sia per noi stessi a rendere la pace sulle nostre famiglie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.